Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video di risolvere così L'errore riguardo all'ultimo aggiornamento su Windows 11 che riguarda il 16 di maggio quindi se andiamo direttamente su cronologia degli aggiornamenti e non riesci a fare questi aggiornamenti come puoi vedere a me installazione riuscita, l'aggiornamento è andato a buon fine quindi se tu non riesci a installare così il tuo aggiornamento il KB537771 è possibile installare questo aggiornamento manualmente senza l'aiuto di Windows Update in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina del catalogo di Windows Update quindi in questo caso vai direttamente a scrivere l'aggiornamento che devi fare di Windows Update quindi KB537771 questo qua vai su ricerca e andiamo così a scaricare il nostro aggiornamento ultimo aggiornamento è il 14 di maggio però io l'ho installato il 16 di maggio questo è l'aggiornamento quindi Windows 11 versioni 22h2 per sistemi basati per 64 questo qua ora noi andiamo su questi link che ci hanno lasciato vicino c'è scritto download clicchiamo sul download e scarichiamo il nostro aggiornamento l'aggiornamento deve finire come .msu così facendo andremo a installare il pacchetto se non è come .msu ti darà solamente dei file che poi dovrai installare direttamente su gestione di dispositivi quindi assicurati di tenerlo come .msu una volta fatto questo il nostro aggiornamento come puoi vedere eccolo qua io se vado ad installarlo e mi dice installazione riuscita perché l'aggiornamento è già installato nel mio computer tasto destro sopra faccio apri preparazione e installazione in corso aggiornamento e rotazione è già installato se invece hai altri problemi possiamo sempre andare sui servizi ci andiamo fino giù fino a trovare così windows update tipo di avvio metti manuale se il tuo stato di servizio è in esecuzione lascialo così com'è se invece hai interrotto fai avvia e fai applica e fai ok se non dovesse funzionare chiudiamo un attimo qua andiamo direttamente nella cartella di windows questo pc disco locale c scende fino a giù fino a trovare così la cartella windows scende fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama software distribution download elimina tutti questi file ok una volta eliminati riavvia il tuo sistema poi dopo aver anche installato l'aggiornamento riavviare il sistema quindi se questo video è stato utilissimo iscriviti lascia like per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao